Ciao! Mi chiamo Mirko Vitali e sono il servizio di rivoli e tecnico in Italia. Sono un agronomistico e vengo da una famiglia di agricoltori che si tratta di una compagnia di circa 300 hectare, coltivata con tomatoli e cereali. Insect damage è un'unica challenge quando usiamo thin wall drip tapes e drip line per single season crops. Insects causano damage to the tube, che causano damage to the crop. Abbiamo capito che come company, dovevamo trovare una soluzione per aiutare i nostri clienti. Dopo anni di ricerca e testi materiali, errori e successi, arrivavamo la conclusione che la migliora soluzione era ad inserire un insecticide in il tube, che minimisirà l'insect damage to the tube. Ovviamente, era molto importante per noi che il prodotto sia sicuro, effettivo e recyclabile. Dopo aver trovato un'attività attiva, abbiamo fatto i primi esperimenti in Italia, in processing tomatoes field. I risultati erano eccellenti, ma il nostro team non era ancora sicuro. Abbiamo aspettato per la prossima season e abbiamo fatto altri testi. Inoltre, abbiamo fatto anche un'attività in Australia con una varietà di crop e i risultati erano ancora grandi. Abbiamo poi provato a mexico in un campo in cui il prodotto aveva abbandonato, perché gli insecti avevano causato così significanti damage che non era economico di creare un crop. Abbiamo avuto un'attività eccellente, e il prodotto aveva iniziato a usare la nostra soluzione nelle abbandonate. Durante i risultati, abbiamo chiesto le persone dedicati a lavorare nel campo e a racconto il numero di holes in ogni tabella. Abbiamo avuto un gruppo controllo, imparando i risultati tra i tabella con e senza la rivoluzione di difendere. Samples dei tabella perforato sono stati sentiti a due lavori diversi, in Australia e in Asia, dove i diversi tipi di damage sono stati esaminati. Abbiamo esperimentato con centenze di centenze di metri di drip-tapia, legati su centenze di hectare per anno. E sono felice di dirvi che oggi, 10 anni dopo il comune del sviluppo prodotto, la Rivoluz Defend è vendita al mondo, ed è un esempio della Rivoluz committura per una innovazione trattata. Oggi, posso confermare che Rivoluz Defend ha il tempo di sviluppo, il lavoro e il lavoro, e, più importante, ha un'attività. Per imparare più su Rivoluz Defend, visite il nostro sito www.revoluz.com. www.revoluz.com.info